Jacopo Massari, dire che questa vittoria ci voleva è scontato. Sì, sì, sì. Era un'emozione nuova. Diciamo che ci eravamo un po' dimenticati come si faceva. Però era un mese che non giocavamo in casa e quindi questo penso sia stato uno stimolo in più anche per il gruppo a far bene. Un primo set in cui eravate pariti in maniera discreta, poi dopo Latina è scappata, sembrava che fosse il prologo della solita partita. Invece poi cosa è cambiato? È cambiato che siamo stati lì, come abbiamo fatto magari in queste due o tre settimane in allenamento, anche se non si è visto dalle partite. Però siamo stati lì con la testa dura perché ci credevamo e volevamo questa vittoria. La società, esonerando la Dicce, ovviamente aveva cercato una scossa. Camperi ha detto già in allenamento si è visto che questa scossa è arrivata. Ovviamente non si dà le colpe all'allenatore perché sappiamo tutti che non era lui l'unico responsabile, però questa scossa probabilmente è arrivata. Sì, sì, non so dirti, penso che non sia dovuto solo all'esonio, anzi, penso che sia dovuto più al fatto che era la prima partita in casa dopo tanto tempo. Perché comunque, come si era visto già nelle partite di Modena e Kazan, il ritmo c'era. Solo che cambiava magari un po' l'avversario, quindi c'erano delle difficoltà maggiori. Per quanto ti riguarda una grande partita? Vabbè, sono contento, ho fatto un po' di errori, ma bisogna continuare così, dai. Un buon punto di partenza. Adesso? Adesso pensiamo a Molfetta, un set alla volta, è lunga.